Ciao Stefano, ciao scusami, no lo so che uno dice arriva Claudio e nel bagno, ti chiedo solo, perché hai chiuso l'acqua? Perché così risparmio circa 15 litri di acqua ogni volta che mi lavi i denti Claudio. Allora fammi fare due conti, 15 litri d'acqua per un lavaggio diciamo, uno di solito magari due barra tre volte, ma mettiamo due volte, 30 litri d'acqua, io non sono bravo a fare i conti, però 30 litri d'acqua per 60 milioni di italiani fanno 180 milioni di acqua che ogni giorno potremmo risparmiare. Mi fido dei tuoi calcoli perché non sono bravo in matematica. Comunque insomma 3 per 6, 18, non lo so se sono 180 milioni o di più, però è tanta acqua che potremmo risparmiare. Pensa, piccoli gesti che salverebbero l'ambiente. Esatto. Grazie Stefano. Ciao Claudio. Ciao. Grazie. Grazie.